Due ore intense dedicate alla raccolta dei rifiuti. È stata questa la mattinata domenicale dei giovani volontari di Cleaners Team Pesaro, che, attrezzati di guanti e sacchi forniti da marche multiservizi, si sono radunati per l'ennesimo evento di riqualificazione di Via Grande Torino. Dopo circa un'ora di tempo, in una ventina di ragazze abbiamo raccolto 30 sacchi e addirittura tra i rifiuti abbiamo trovato degli scatoloni pieni di Eternit, tubi idraulici, quindi non soltanto rifiuti del McDonald's, ma proprio la gente viene a scaricare anche rifiuti domestici, di lavoro, quindi quello che ci tenevamo è anche denunciare questa situazione tramite questa pulizia. Ci potete seguire nelle nostre pagine social, sia su Facebook che su Instagram, chiamate Cleaners Team Pesaro, dove lì pubblichiamo mensilmente gli eventi che organizziamo per le pulizie, e la partecipazione libera tutti, i guanti e sacchetti li forniamo direttamente noi, addirittura lasciamo anche gli stessi guanti per future pulizie, in modo tale che i ragazzi possano partecipare anche in futuro ad altri eventi. Essendo la quarta volta che puliamo questa zona, non pensavamo di trovare sempre questa quantità immonda di rifiuti, però la sensazione è sempre di gratitudine, sensazione piacevole di aver unito così tanti ragazzi a questo obiettivo, perché finché non si mettono le mani fisicamente al problema, non ci rendiamo conto di quello che troviamo, e così sarà sempre ogni volta. Speriamo sempre di ridurre la quantità dei rifiuti, ma di aumentare soprattutto le persone che partecipano alle nostre eventi e pulizie. All'iniziativa hanno partecipato anche alcune figure politiche, come l'assessore all'ambiente Aidi Morotti, l'assessore alle politiche giovanili Mila della Dora e il consigliere regionale Andrea Biancani. Queste sono iniziative comunque molto importanti, perché consentono di sensibilizzare i cittadini rispetto a un problema, cioè rispetto al problema che i cittadini continuano a buttare i rifiuti in giro per la strada. Questa cosa è una cosa veramente brutta, anche perché sappiamo che poi una volta che vengono gettati a terra, poi finiscono nei fiumi, poi alla fine finiscono in mare. Andando, come dire, da una parte sono brutti a vedersi, ma dall'altra parte creano un vero e proprio inquinamento. Vediamo tanti ragazzi impegnati e quello che è il prendersi cura della collettività. Ci sono tanti rifiuti abbandonati ed è un paccato. Qui alle mie sfalle c'è un'area che nell'arco di un anno sarà completamente riqualificata, perché è oggetto del progetto della pista ciclorotellistica. È un'area che avrà nell'arco di un anno un'altra vita, un'altra forma e sarà un impianto sportivo che si andrà ad aggiungere alla Vitri Frigo Arena e quella che può essere un'area in continua espansione con tanti servizi per la collettività. Chiaramente non posso far altro che ringraziarli per il lavoro che hanno fatto e non posso far altro che ammonire i pesaresi, i cittadini che così in maniera maleducata, incivile e indecente hanno buttato il materiale qua nella zona sotto al ponte dell'autostrada. Abbiamo ritrovato materiale edile, tubi idraulici, piastrelle, tutto materiale che è stato scaricato abusivamente da chi probabilmente pensava di poter fare il furbo, di smaltire il proprio rifiuto senza pagare, magari di qualcuno che è andato a lavorare in nero presso qualche abitazione. Sono tutte cose che devono assolutamente finire. Sicuramente sarà una delle prossime zone che sarà attenzionata dall'amministrazione. Cercheremo di mettere le telecamere per fare in modo di scoraggiare e di multare qualcuno di questi soggetti.